Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi giochiamo in un campo semi urban in cui ci sono vari container, macchinari e montagne di sabbia Grazie a tutti Ciao a tutti Guardo esce Ragazzi, viste siamo un 4, 2 a 2? Ci dividiamo Uno che passa sotto e l'altro che fa sopra da spotting Che dite? Noi abbiamo un vantaggio che siamo subito sopra Buon contatto Già divisi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti A me o me stanno arrivando eh, giuro Ciao a tutti No Ma stai sparando? Perché mi è arrivato a me nemmeno un colpo, giuro No, non spara Ciao a tutti 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 Io sono contento ragazzi Ciao a tutti 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 Mi stanno sparando a me? Ciao a tutti 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 Sopra c'è qualcuno? Ciao a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni pure. Vieni pure. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ti ho sparato a un metro. No, no, io non ho succedo niente. E ti ho sparato sul tattico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eccolo lì lì Non t'ho preso secondo me Eccolo lì Fine 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 Fine